Per secoli ho mostrato un senso di colpa che mi giustificasse davanti alla storia. La spietata Lady Macbeth che ravviva il fuoco del matrimonio con l'ambizione e col sangue racconta il suo punto di vista sui delitti che la vedono protagonista nella tragedia scozzese di Shakespeare. Sabato 16 e domenica 17 Lady Macbeth scena da un matrimonio di Michele De Vita Conti al nest di San Giovanni a Teduccio. E ancora nel quartiere di San Giovanni a Sala Icos due spettacoli della compagnia Mulino ad Arte. Fino a venerdì 15 mi abbatto e sono felice, dissacrante monologo a impatto ambientale zero con la scena illuminata grazie alla pedalata continua dell'attore. Sabato 16 e domenica 17 saranno invece in scena Le Jumeaux, i gemelli, con la storia poetica e autentica di due artisti di strada in giro per il mondo. E ancora sabato 16 e domenica 17 il nuovo Teatro Sanità ospita Sira di Tino Caspanello, incontro al buio fra un maestro e un allievo legati da una vicenda drammatica e misteriosa. Il nest, Sala Icos e il nuovo Teatro Sanità potranno essere raggiunti col Polybus, la navetta gratuita del comune di Napoli disponibile su prenotazione.